Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. In apertura torniamo a parlare di vaccini. A pochi giorni dall'inizio delle scuole il sindaco De Caro ha convocato la conferenza dei sindaci della ASL Bari per condividere un protocollo sulle procedure da mettere in atto. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. Pochi giorni all'inizio delle scuole l'ansia da vaccinazione che aumenta nelle famiglie e le istituzioni che corrono ai ripari. La legge 119 come noto ha ampliato il numero di vaccinazioni obbligatorie per i bambini che si iscrivono a scuola. Un dovere che in caso di mancata ottemperanza farà scattare aspre sanzioni nei confronti dei genitori. Il difficile però è l'organizzazione di tutta la parte burocratica da parte dei presidi. Per questo motivo la conferenza dei sindaci dell'ASL Bari presieduta da Antonio De Caro si è riunita questa mattina a Bari per chiarire la situazione. Ci siamo concentrati sulla fascia di età 0-6 anni per la quale c'è la prima scadenza che è il giorno 10 settembre. Il quadro è abbastanza rassicurante nel senso che si può consegnare a scuola la fotocopia del libretto, delle certificazioni, si può consegnare un'autocertificazione oppure un certificato attestante alle vaccinazioni che si può ritirare o presso le ASL, in particolare presso gli ambulatori vaccinali, oppure grazie a un accordo che è stato fatto dalla Regione Puglia con l'Associazione delle Farmacie, c'è la possibilità di ottenere nella maggior parte delle farmacie dell'area metropolitana di Bari la certificazione. Terrasso si sta facendo tutto il possibile per agevolare le famiglie in vista dell'iscrizione. Se era già nota la possibilità di presentare anche la sola prenotazione in caso di vaccinazione non ancora avvenuta, ci si sta muovendo oggi ulteriormente in questa direzione. Una procedura che spiega il direttore dell'ASLBA, Vito Montanaro, sarà ulteriormente snellita. Le azioni sono tutte quante finalizzate alla agevolazione dell'acquisizione delle informazioni utili per far iscrivere i bambini a scuola senza alcuna limitazione. Quindi la nostra organizzazione sarà finalizzata alla fornitura di ogni informazione utile a consentire agevolmente l'iscrizione del bambino e la frequenza del bambino a scuola. In Italia ci sarebbero degli sciacalli e l'invito è di non cadere nelle trappole di questi farabutti che vogliono portare il nostro paese alla rovina. La replica dell'imam di Bari, Sharif Lorenzini, non si è fatta attendere. Lorenzini era stato accusato di aver emesso una sentenza di morte nei confronti dello scrittore egiziano naturalizzato italiano Magdi Cristiano Allam. Nulla di quanto dichiarato corrisponde a verità, conclude Lorenzini. Direzione Italia, cambio ai vertici. Illustrate questa mattina le linee politiche della formazione guidata dall'onorevole Raffaele Fitto. Sentiamo. I prossimi appuntamenti che ormai sono dietro l'angolo, mi riferisco alla scadenza naturale della legislatura, quindi alle prossime elezioni politiche, impongono una discussione sulla linea politica. La nostra posizione è quella di essere come sempre stabilmente nel centro-destra. Noi due anni fa abbiamo lasciato una nave per prendere una zattera. Un nuovo percorso fatto di nuovi contenuti. Direzione Italia si tira lucido. L'insediamento ufficiale arriverà tra una settimana, ma questa mattina in conferenza stampa la presentazione dei nuovi vertici del gruppo. Siamo una piccola forza politica, commenta l'onorevole Antonio Di Staso, oramai responsabile nazionale per i rapporti con gli altri partiti del Parlamento, ma continua, ci stiamo strutturando sia a livello nazionale che periferico. Accanto a lui il consigliere Francesco Vento, la nuovo coordinatore regionale. A livello regionale l'attività che è stata svolta e che stiamo continuando a svolgere con il nostro capogruppo Ignazio Zullo, che purtroppo non è qui per questioni familiari, è stata sin dall'inizio di coerenza nei confronti dell'elettorato, del mandato elettorale e di ferma opposizione non strumentale nei confronti della nuova governatore regionale, Emiliano. Due feriti al San Paolo per una sparatoria. Un portone danneggiato al Madonella con una pistola da soft air continua l'emergenza sicurezza a Bari. Siamo stati proprio nella zona di via Arcivescovo Vaccaro per ascoltare le testimonianze dirette dei cittadini. A commentare la situazione invece è stato il senatore del Movimento 5 Stelle, Lello Ciampolillo. Un cartone copre il vetro danneggiato. Le rilevazioni della scientifica che testimonierebbero che a causare il danno sarebbe stato un banale fucile da soft air. Al quartiere Madonella da questa mattina non si parla d'altro. I gnoti avrebbero sparato un colpo, seppur con un fucile giocattolo, contro l'ingresso di un piccolo condominio. Uno stabile abitato da soli anziani, comunque persone tranquille, racconta la gente della zona. Eppure l'episodio ha certamente minato la tranquillità di un quartiere tra i più vivibili della città. Quello che hanno riferito sia chi abita e sia la polizia scientifica che è venuta, non ha trovato nessun corpo. L'ho saputo adesso, ho chiesto dal giornalario, ma mi hanno detto che non è una rottura di quel vetro, ma sia una sparatoria. È vero o non è vero? E se a distanza di poche ore in un altro quartiere San Paolo due uomini rimangono feriti al termine di una lite in un centro ricreativo, non deve stupire se le poche forze dell'ordine da distribuire sul territorio cittadino devono privilegiare le zone più calde. Io credo che la presenza di una postazione mobile, non dico ogni strada, sarebbe impossibile. Però almeno nelle piazze più importanti, piazza Carabellese, piazza San Giuseppe o nella zona del Marconi, tenere lì una postazione fissa che per qualsiasi evento, diciamo, la presenza delle poze dell'ordine sarebbe molto più attiva. Qui quando chiami una pattuglia non arriva tanto semplice, lo ship è stato fatto, la signora sta a terra. Eppure qui la responsabilità non sembra potersi attribuire, come spesso accade, al fenomeno migratorio, considerato che questo quartiere è forse quello dove l'integrazione avviene nel miglior modo possibile. Su tutti basti l'esempio di un africano che in cambio di qualche spicciolo tiene pulito un tratto di strada, una bella storia che aiuta a riconciliarsi con il mondo. Penso che stare tutti più tranquilli forse aiuta a mantenere un clima più sereno per tutti. La sicurezza non c'è, le persone, i baresi, io sono sicuro che hanno necessità di poter uscire di casa, di poter, a qualsiasi ora, hanno il diritto di dover stare tranquilli. Ma ovviamente basterebbe pensare a quello che accade nella nostra città, dai parchi che sono abbandonati, io pensavo proprio in questo momento al parco Mimmo Bucci, che è stato più volte preso di mira da persone che l'hanno devastato, quello che doveva essere anche il ricordo, la memoria di Mimmo Bucci. Basterebbe pensare dalla tangenziale gli infiniti incendi che vengono fuori dai campi Rom oppure dalle zone dello stadio, ancora di più, proprio l'ultimo caso recente ancora della prostituzione minorile che avveniva in un furgone davanti allo stadio. Allora, se non c'è sicurezza vuol dire che non c'è il controllo del territorio. L'ASD di Bari ha deliberato un risarcimento di 440 mila euro per i genitori della bimba strozzata dal cordone ombelicale all'ospedale di Venere di Carbonara. I fatti si sono svolti lo scorso aprile, otto le persone indagate fra medici ed infermieri. Secondo gli inquirenti a causare la tragedia sarebbe stata una lite tra medici che avrebbe ritardato il cesario di un'ora e mezza. Pane e pomodoro, ennesimo divieto di balneazione in seguito alle recenti piogge. Poche gocce sono bastate a mandare in tilt la condotta Matteotti. Vediamo che provvedimenti sta prendendo l'amministrazione comunale. Assessore, ennesimo divieto di balneazione a pane e pomodoro. I baresi sono stanchi, qual è la situazione? Stiamo lavorando su più fronti, alcuni sono praticamente quasi prossimi. Esiste un intervento di lavori di manutenzione straordinaria di 2 milioni e mezzo che ACUPI ha già mandato in gara. Questa mattina c'è una seduta pubblica, quindi noi contiamo di avere l'aggiudicazione di questo lavoro e l'inizio veramente a breve, ovviamente fatte salve eventuali problematiche relative al procedimento di aggiudicazione. Subito dopo c'è un altro progetto importantissimo che ha una dimensione economica importante di oltre 20 milioni di euro, di circa 22 milioni di euro, con cui contiamo, sempre grazie ad ACUPI, di eseguire una serie di nuovi tronchi di fognatura nera che permetteranno quindi di eliminare tutto l'apporto di fognatura nera che oggi confluisce all'interno della condotta Matteotti e che è quello che genera poi il problema dell'interdizione della balneazione in corrispondenza, diciamo, di eventi piovosi importanti. Primo concerto dell'Associazione Barese I Melodisti, i soprani Anna Schiavulli e Francesca Ruospo, accompagnate dal pianista Vincenzo Cicchelli, hanno presentato ieri sera Palazzo Pesce a Mola di Bari a due voci, duetti di amore, tormenti, natura, felicità. Un programma intero di duetti da camera per un concerto realizzato in collaborazione con l'Associazione L'Atelier delle Arti e la BCC di Conversano. I melodisti sono stati da poco fondati da Vincenzo Cicchelli insieme a Stefania Gianfrancesco. Si è tenuta ieri a Palo del Colle la terza edizione della Corsa Stradinamica. Vediamo il servizio. Prosti, noi stai da partenza della terza edizione della Stradinamica. vi ripeto, una grande organizzazione, grande attenzione di persone lungo le strade di Palo del Colle. Prosti, via! Buona che va ragazzi! Vi aspetto in piazza! Erano dieci anni che non venivo qui a Palo del Colle. Devo dire che Palo del Colle è stato il mio inizio di carriera a 17 anni. Ho vinto il mio primo titolo regionale su strada qui, da allievo. È bello essere ritornati ed essere ritornati con una vittoria. Poi ho visto una grande gara, ben organizzata. Mi è servita come test per i camionati italiani del 9 settembre in quel di Bergamo, sabato prossimo, per testare la mia forma. Devo dire che in un percorso abbastanza tecnico ho corso abbastanza bene, anche se non sto al top della forma. Vincere è sempre bello, è una grande soddisfazione. A me piacciono i percorsi anche sali-scendi perché io vengo da Altamura, quindi anche lì si sale e si scende. Comunque mi sono divertita. Dovevo testarmi per i campionati italiani di sabato a Dalmine e quindi è stata un'ottima prova, sono soddisfatta. Il telegiornale termina qui. Vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Ci aspetta un martedì all'insegna del tempo tutto sommato buono sull'Italia con la pressione in intensificazione e assenza di precipitazioni sulla nostra penisola. Vediamo anche il dettaglio relativo alla nuvolosità con un cielo in gran parte sereno, poco nuvoloso salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano in sviluppo sull'Appennino centro-meridionale e localmente sui settori alpini centro-orientali ma senza conseguenze. Lo vediamo anche su tutti i dettagli relativi allo stivale con ampi spazi di sereno salvo innocuo e nuvolamenti di cui vi parlavo poc'anzi in prossimità delle aree montuose alpine e appenniniche ma senza il rischio di piogge. Notate anche le temperature in lieve rialzo ma su massime in linea con le medie di questo periodo. Con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati grazie.